Ciao, mi chiamo Danilo e nella vita faccio anche il geometra. È detraibile o no il visto di conformità, la spesa per il visto di conformità? E quella per l'attestazione sulla congruità delle spese, ora che sono state estese, l'obbligo è stato esteso all'accessione e lo sconto di tutti i bonus oltre che al superbonus, sono spese sì o no che rientrano nell'agevolazione? Ti andrò a rispondere tra poco perché è uscita la circolare 16 dell'Agenzia delle Entrate che va a chiarire proprio come si applicano le modifiche che sono state apportate dal decreto antifrodi. Prima però lascia mi piace al video, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e se vuoi accedere ai video esclusivi, esclusivi per gli abbonati dove rispondo alle domande che mi inviate via email, quindi troverai dei casi pratici ai quali rispondo, oramai siamo sopra gli 80 video se non 90 se non sbaglio, puoi abbonarti sia su YouTube che nel sito, ci sono delle piccole differenze di modalità di fruizione ma i contenuti sono gli stessi. Il decreto 157 dell'11 novembre 2021 ha introdotto maggiori poteri per l'Agenzia per quanto riguarda i controlli sulle gestioni e gli sconti per evitare le frodi, per evitare quelle gestioni poco chiare e ha esteso l'obbligo, proprio per far fronte a questo motivo, ha esteso l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione sulla congruità delle spese, oltre che per il super bonus, cessione sconto, anche per il super bonus in caso di fruizione diretta e per tutti gli altri bonus in caso di cessione del credito sconto in fattura. Successivamente ha la pubblicazione del decreto che è vigente dal 12 novembre, quindi dal 12 novembre in poi ho già fatto dei video nei quali spiego come regolarsi con le spese appena sostenute, da sostenere, le gestioni da fare, eccetera, eccetera. Comunque dal 12 novembre in poi le modifiche che sono state apportate al decreto rilancio sono valide, vigenti e bisogna applicarle. Sono uscite le domande e le risposte dell'Agenzia delle Entrate, alcune risposte dell'Agenzia delle Entrate che hanno chiarito in parte questa situazione e il 29 novembre 2021 è stata pubblicata la Circolare 16 che va ad entrare più nel dettaglio su come applicare la possibilità di cessione e sconto con i nuovi adempimenti introdotti dal decreto 157. Tra le tante notizie ce ne sono alcune molto importanti. La Circolare 16, ad esempio, sottolinea il fatto che il costo per il visto di conformità per il 110%, stiamo parlando adesso del superbonus, il costo per il visto di conformità che ora è necessario anche in caso di fruizione diretta, perché l'attestazione della congruità delle spese era comunque richiesta anche in caso di fruizione diretta del credito mediante detrazione in 5-4 anni dall'IRPEF, il costo del visto di conformità è una spesa che rientra nell'agevolazione. Così come l'attestazione per la congruità delle spese, sempre per quanto riguarda il 110%, però. Perché il comma 15, che appunto sottolinea il fatto che le spese per questi adempimenti sono, fanno parte del monte della cifra che andrà poi agevolata, dice proprio che rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di quei commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11, di cui al presente articolo. Siamo nell'articolo 119, siamo nell'articolo del 110% del super bonus, mentre gli altri bonus che sono stati, ai quali è stata data la possibilità di cessione sconto con il decreto rilancio, sono menzionati nell'articolo 121, l'articolo che regola la cessione e lo sconto. Ed ora, con il decreto 157, è stato esteso l'obbligo del visto e dell'asseverazione anche a questi interventi qui, ai quali però, andando ad analizzare il comma 15, non fa menzione dell'articolo 121, ma solo del presente articolo, cioè del 119. Gli altri, ripeto, sono contenuti nel 121, che non viene citato al momento. Quindi gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro di sanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, quelli classici al 50%, così come l'eco bonus dell'articolo 14 e il sismo bonus dell'articolo 16 del decreto 63-2013, così come il bonus facciate, non sono tra quelli menzionati, nel caso in cui venga redatto il visto e l'attestazione sulla congruità delle spese, tra quelli per i quali le spese di questi adempimenti possono essere agevolate. Quindi sembra proprio di capire che le spese di questi adempimenti obbligatori siano fuori dall'agevolazione, dalla possibilità di portarli in detrazione, o cederli o scontarli. Vedremo cosa succederà da qui alla conversione in legge del decreto, perché ti ricordo che il decreto deve essere convertito in legge e entro 30 giorni della conversione in legge uscirà il decreto ministeriale su alcuni prezzi ai quali fare riferimento, quindi verrà messo un freno anche ai prezzi, ma questo è un altro discorso che non riguarda questo video. Vedremo cosa succederà durante la conversione in legge. Ad oggi purtroppo è che sembra proprio leggendo in modo analitico ciò che è stato pubblicato che queste spese non debbano essere considerate. Certo è che sono spese che sembrano collegate e correlate, sembrano tra quelle spese collegate e correlate che anche se non espressamente citate nella norma potrebbero essere benissimo intese come necessarie per la fruizione, per l'espletamento degli adempimenti riguardanti i bonus e quindi tra le spese che possono essere agevolate, come ad esempio tutte quelle spese tecniche, piuttosto che i costi per il rilascio dei titoli edilizi, piuttosto che i bolli, piuttosto che gli oneri della sicurezza per quanto riguarda il tecnico, il CSE o il CSP. Sono voci che non sono espressamente indicate nella norma, ma che comunque sono spese per prestazioni professionali strettamente collegate all'esecuzione dell'intervento. Quindi io auspico che verranno considerate, che potranno essere delle spese che verranno considerate, anche se, ripeto, volendo leggere in modo dettagliato, sembra proprio che siano tagliate fuori. Grazie.